L'affascinante Borgo di Montesecco ospita domenica 16 agosto la sesta edizione della Notte Verde, un evento ideato dalla Giunta Baldelli e organizzato con il Comitato Locale dei Cittadini che fin dalla prima edizione ha riscosso un enorme successo di pubblico, sia per la bellezza del luogo che per la qualità e varietà del programma. Dalle ore 19 fino a tardanotte, infatti, sarà prevista la ristorazione, l'animazione e tanto divertimento. La Notte Verde, una notte tutta dedicata all'animazione, il divertimento e la ristorazione, nel più bel balcone alle pendici del Catria sul mare Adriatico, quindi un divertimento sotto le stelle sperando nel bel tempo. E ricco sarà anche il programma? Molto ricco il programma, dalla piazza della Torre con il divertimento per i più giovani, quindi una discoteca sotto le stelle, animazioni con zumba e altri balli del momento, ovviamente aperti al pubblico, per passare poi all'intrattenimento dei più grandi, da concerti di musica leggera al tradizionale ballo liscio, ma anche alla competizione tra due voci, un tenore che se la vedrà con una voce di musica leggera. E poi ovviamente tanto pesce quest'anno dell'Adriatico, perché è sempre più forte il rapporto tra la costa, soprattutto quella fanese, e il nostro introterra. Ci sarà anche una passeggiata in mountain bike? Sì, stiamo aspettando tanti russi che si sono prenotati, statunitensi e ovviamente i classici europei che affollano le nostre terre, le nostre colline, olandesi e tedeschi, compresi gli amanti della mountain bike del nostro territorio, per la prima passeggiata in mountain bike della Notte Verde. Dalle sette e mezza del mattino fino ad arrivare a sera, percorsi un po' più difficili e un po' più facili, a seconda dell'allenamento di cui ogni ciclista sul quale può vantare o può contare. Visiteremo gli scorci più belli, non solo di Montesecco e delle nostre colline, ma anche del centro storico di Pergola. Ad esempio, suggestiva, saranno i 100 scalini che potranno essere percorsi in mountain bike dalla Rocca di Pergola fino al centro storico. Veramente da non perdere.